Previsioni meteo per martedì 25 aprile. Al nord nubi sparse con ampie schiarite in riviera Ligure sulle pianure Lombardo-Piemontesi, coperto con neve debole o moderata sulle Alpi occidentali, coperto con pioggia debole sulle Alpi centrali. Al centro nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure Toscane, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Al sud sereno sull'Adriatico, nubi sparse con ampie schiarite sul litorale Ionico Sereno altrove. Venti in prevalenza deboli meridionali, mari da mossi a poco mossi, temperature stazionarie.